Ciao a tutti e a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo e benvenuti alla puntata numero 88 del Pietro Rottolanti Cycling Podcast. 88, mi vengono in mente tante cose da associare a questo numero, anche perché io sono andato a scuola con gli 88. In realtà le Olimpiadi, Seul, Danilo Gallinari, quello che vuoi, ma siamo ancora qui dopo 88 puntate, caro Marco, per parlare con voi di ciclismo, ma soprattutto di tutto il resto. Benvenuto. Anche Gianluigi Buffon, direi, mi ricordo questo numero. Vero, vero, vero. O Cristian Piatti anche. Ciao a tutti, come state? Vi siete goduti il weekend ardennese? Ardennesco. Ardennesco. Limburghese, forse, per meglio dire. Oggi sarà una puntata particolare, in primis perché sono senza cuffie, quindi non ho assolutamente idea di come verrà l'audio, Marco. Cioè, sarà un'avventura, lo scopriremo insieme al nostro pubblico, quasi, tipo dieci minuti prima, tanto la carico a prescindere. Ma sono senza aria condizionata in ufficio, ma ho ancora un ufficio. Cioè, qui c'è una notizia dietro l'altra, si accavallano, però al momento sono senza aria, quindi io non so, ragazzi. Oggi farò una fatica tremenda, spero che Marco mi aiuti perché è difficilissimo. 26 gradi e mezzo. Vabbè, dai, cosa vuoi? Avessi detto 27, mezzo, ci sta. Siamo in mezzo all'Ardenne, siamo alla vigilia della Frezza Vallone, la corsa preferita dell'anno di tutti, ovviamente, Marco. Quindi oggi parleremo soprattutto della preview della Frezza Vallone, cioè la preview più interessante dell'anno. Aspetta, avevo proprio rimosso che ormai ci sarebbe stata la Frezza Vallone. Ah, esiste! Più interessante quella femminile, sicuramente, voglio dire. Ma, diciamo pure che di tutte e tre le gare dell'Ardenne probabilmente sono più interessanti le femminili, a meno che, e poi questo a meno che lo svilupperemo poi andando avanti nella puntata, ma l'abbiamo già anticipato nella scorsa. Anche l'Amstel, secondo me, è stata una corsa molto, molto strana, resa strana in entrambe le categorie, resa strana da questo stop che la femminile era totalmente stravolta, più o meno, come corsa. E infatti non a caso è arrivata a toccare la Lorena Vibes. Lorena Vibes. Mentre al maschile è stata una corsa... è stato un Amstel, come spesso accade, di incertezze, tanti attacchi, uno dietro l'altro, tanti gruppetti, e però con i migliori che non sembrava mai voler affondare il colpo, sono sembrati tutti un pochino, quasi, Marco, tenersi per la Liege. Soprattutto uno, soprattutto uno. Sì, l'impressione è stata quella, effettivamente, perché se ne è stato sempre un po' in disparte, ci riferiamo naturalmente a... Michael Matthews. Beh, è chiaro. Poi ha vinto la vuota e i battuti, sbuccando al null. No, no, ovviamente a Nanni Moretti. È stato un po' Nanni Morettiano in quest'Amstel, diciamolo. Sì, infatti. In questo caso, però, lo si sarebbe notato di meno se non si fosse proprio presentato, perché non era obbligato a presentarsi, quindi... Cioè, non ci avremmo fatto caso che non c'era. Avremmo aspettato con curiosità comunque la Liege. Secondo me, l'obiettivo suo era di anche trovare un certo ritmo gara su percorsi un po' diversi rispetto a quelli che ha affrontato fino alla settimana scorsa. E quindi, in tal senso, gli fa solo bene aver fatto l'Amstel. È chiaro che non si è dannato per il risultato. Poi, se fosse venuto qualcosa, piovuto dal cielo, ovviamente, non si sarebbe fatto sfuggire. Esatto, voleva giocarsi a dirimessa, tra l'altro è arrivato nel gruppo che è arrivato a dieci secondi dei vincitori e non ha voluto farla volata. Se l'avesse fatta, magari, l'avrebbe vinta. Massimo avrebbe fatto secondo dietro Matthews, che comunque in queste situazioni penso sia molto esperto, però oltre a lui non penso. L'avrebbe vinta o al massimo l'avrebbe persa? Non vedo altro. Oggi va così. Oggi va così. Lo eseguo, lo vedo difficile. È che però, all'Amstel... Ci sarebbe dovuto essere un paio di anni fa. È un tema, è un tema sempre attuale, diciamo. Sicuramente Marco si è confermata la corsa ai photo finish. Cioè, questo rimane assolutamente il tratto distintivo dell'Amstel di questa epoca. Perché Pitcock si è preso la rivincita dal suo. E tra l'altro, non so se hai visto che si è lasciato scappare, ha tirato fuori una gran perla. Ecco, questi sono i corridori di classe che mi piacciono al microfono, anche se di classe spesso Pitcock ne ha poca. Però ha quell'arguzia di fondo, perché ha detto, tipo, potrei dire che è la mia seconda vittoria, però non ve lo dico, tranquilli, non faccio polemica. Cosa un po' fulbette. Due sul campo. Vabbè, però c'è la mia seconda. Eh, certo che hai ragione. Dovevamo dare, almeno l'exempo dovevamo dare. Assolutamente. Rivincita fu, ma nel frattempo, quest'anno l'abbiamo avuto al femminile, il grande photo finish annuale e la grande perla annuale. Marco, io vorrei impostare tutta questa puntata, so che è impossibile, ma mi piacerebbe, su questa domanda. Com'è possibile? Com'è possibile? Ma poi in realtà il prodigio... Quali sono i fattori scatenanti che permettono che con questa costanza, non è che succede una volta ogni tantissimo, succede svariate volte all'anno. E succede in corsi importanti, succede in corsi che qualcuno non ha mai vinto, succede in corsi del livello che uno non ha mai vinto, pensate alla Filippa Laliezi. Però continua a succedere. Com'è possibile, Marco, che i corridori esultino prima di aver vinto, di aver fatto letteralmente una pedalata in più e essere arrivato all'altra guardia? La chiusura della vena, non lo spiego diversamente, insomma, è totalmente l'entusiasmo. L'ansia, no? Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. E' un segnale d'ansia, forse, questo qui. Anche se il photo finish, stavo dicendo, in questo caso, non è che proprio sia servito, perché alla fine Voss ha vinto con margine, ha vinto abbastanza nettamente, per essere un arrivo tirato. E' servito il replay per capire chi aveva vinto, per esserne certi, sa? Però sì, il photo finish era facile. ha fatto un gran colpo di reni e l'altra non l'ha manco proprio fatto. Ha guardato solo da un lato, che però, tra l'altro, ha guardato verso il centro, che è difficile che ti sorpassino al centro se sei la velocista migliore del mondo. da dov'è che ti posso sbucare, magari? Dalle transenne? Cioè, non lo so, mi sembra tutto assurdo, Marco. Mi sembra tutto assurdo. Sei un velocista, devi fare quello. Cioè, fondamentalmente devi curare 200 metri di gara, fino a lì devi galleggiare. E gli è andata di super lusso, che appunto questa gara stravolta si è trovata lì, altrimenti con la gara più dura non penso che qualcuno veda Lorena Vibes nel gruppetto che si gioca un'Amstel. Aberturante, insomma, da un anno in qua è migliorata anche in salita, c'è da dire. Beh, sì, però, insomma, solitamente se la gioca un profilo è abbastanza scalatori l'Amstel femminile. E invece la freccia femminile? Chi se la gioca? Eh, la freccia femminile è interessante perché anche lì ti rifaccio il discorso di Van Der Poel all'Amstel. Vale a dire... Aspetta, controllo di non dire una fregnazza al volo. Non lo dire, non lo dire. Ah, no, esatto. Fermati, fermati. Vale a dire, Elisa Longoborghini è chiaramente la ciclista più in forma del pianeta. è più forte, penso. Del globo terracqueo. Del globo terracqueo, esatto. Non addentriamoci nelle atmosfere, rimaniamo un attimo con i piedi per terra o in acqua, appunto. Con i piedi di piombo. in acqua. Molto bene. Piedi di piombo, eh. Molto bene. In questo momento era più forte. All'Amstel non è riuscito a fare la differenza perché non c'era il terreno, ma anche lì si è visto come la corsa agire intorno a lei in questo momento e come si era più rispettata di tutte. Cosa vorrà fare in questo senso? Vuol provare a giocarsi le sue carte in una freccia che solitamente negli altri anni non è proprio nelle sue caratteristiche è una corsa più esplosiva di quello che serve a lei di solito, ma forse potrebbe essere nelle sue corde quest'anno che è così tanto in forma e quindi puntare alla doppietta perché lei ci aveva detto fin da dal dal mancato tentativo di Roubaix che l'Aliezi era il suo grande obiettivo oppure lascia far l'Aliezi alla freccia a qualche compagna magari anche fungendo un po' a specchietto per le allodole in certi momenti e poi poi ne riparliamo a Liezi domenica che appunto è il suo secondo grande obiettivo di questa prima metà di stagione. Sì, anche se comunque Realini sicuramente è un sì è un nome credibile per la per la corsa di domani quindi ha senso no? L'anno scorso fece terza eh sì quest'anno sicuramente è maturata è migliorata ulteriormente poi bisogna vedere lo stato di forma se è uguale a quello di quel giorno eh sì perché è un po' un'incognita effettivamente no? In questo momento Realini però io una così sinceramente me l'aspetto che emerga in maniera naturale sul muro di V ma lei ma ce ne sono anche altri in realtà che si aggirano c'è Sara Gigante che ha fatto Mirabilie al Tour Down Under ne scrivevo qualche mese fa che è una scalatrice anche fortissima che ha avuto un sacco di problemi in carriera ora finalmente pare pronta a esplodere e quindi occhio anche a lei per esempio per fare un altro nome e poi ci sono le SD Works che però quest'anno sembra che diano qualche dubbio perché anche ieri vedere l'Ottico Peggy così dimessa Demi Vollering che non è riuscita a essere un fattore Demi Vollering è arrivata a ventiduesima non so quanto tempo fosse che non faceva un risultato così in una corsa che tecnicamente le si addice tre anni tipo non so non so può essere che a livello di preparazione non tutto si è andato come l'anno scorso non lo so oppure per quanto riguarda a Coppeghi forse lo dicevamo anche la settimana scorsa ci sono le Olimpiadi che rappresentano il perro dell'astrazione quindi ci sta che magari adesso non stia proprio al super picco si questo discorso poi teoricamente è applicabile un po' a chiunque perché comunque a lotte di più a ganna di più magari certo a lotte a ganna anche a Pitcock volendo che però ha vinto in realtà perché è l'altro magari che potrebbe fare due discipline ce ne sono svariati chiaro e che può puntare effettivamente a loro olimpico però sì per me è applicabile eventualmente anche a tanti altri diciamo che lo potremmo scoprire un po' a posteriori rimane il fatto sì come dicevi tu prima scusami ma che SD Works sono tutte le SD Works che non vanno come prima Anche Fisher Black l'avevo vista al Tour Down Under comunque si era disimpegnata bene aveva vinto una tappa Demi Vollering ha questa situazione un po' ambigua per la quale pare che lei stia per cambiare squadra andare alla FTG Suez che intanto per il momento ha perso per un grave infortunio Cecilia Ludwig o insomma può essere che incidano che in squadra abbiamo percepito che non c'è grande armonia quanto meno fra Demi e il management perché uno dice una cosa l'altro dice l'altra c'è stato nelle scorse settimane un po' di rimpallo di dichiarazioni però non c'è stata una dichiarazione congiunta quindi si capisce che ognuno sta andando per la propria strada in questo caso e queste situazioni possono sicuramente avere un'influenza magari anche che ti venga a mancare quel 2% di motivazione diciamo ma ti rompi palle quindi ti alleni nella zona di meno magari c'hai meno voglia o trovi una scusa che magari ha le sue motivazioni e però in altri in altri momenti tu avresti passato oltre e invece in quel momento non ti va gli stimoli nello sport sono una componente fondamentale voglio dire centrale se ti viene a mancare un po' di motivazione perché appunto hai litigato con il tuo management quindi magari non c'hai proprio quella spinta a dare quel di più per i colori che difendi oltre che per te stessa che poi è un discorso che vale per qualsiasi lavoro in realtà esatto esatto cioè uno arriva anche ad autodanneggiarsi magari non volontariamente però lo fa pur di danneggiare la sua controparte del momento va bene ci sono tutti meccanismi inconsci voglio dire non sto dicendo che Demi Vollering voglia farla pagare alla SD Works per averle fatto vincere tutto in carriera no non è così non è così però chiaro è vero è vero molto vero in più insomma una sfortuna qua appunto una discussione là e poi sai vediamo molto la differenza perché passi da vincere sempre ad altro e qualsiasi altra cosa che non sia vincere sempre dà molto nell'occhio rispetto a magari un atleta che che ne so faccio un esempio mi viene in mente al volo Silvia Persico due anni fa ha fatto un sacco Silvia Pellico avevamo già detta questa forse o no non lo so Silvia Pellico due anni fa faceva ha fatto un botto ai piazzamenti molto in alto tipo terza quarta nelle corse più importanti mentre l'anno scorso spesso era sesta settima ottava nona e in realtà quindi il cambiamento c'è stato però ovviamente si nota molto di meno perché appunto mancano quei picchi esagerati quindi sì sarà una corsa triplamente interessante per tutti questi motivi quadruplamente interessante la Liesi dico perché l'anno scorso è stata la la classica edizione con volata due Longoborghini contro Fenomena di turno e ne abbiamo parlato parecchio Vollering insomma stava dominando poteva fare quello che le pareva in quel periodo a seconda Liesi che ha vinto tra l'altro però quest'anno non dico che potrebbero invertirsi che potrebbe invertirsi la situazione perché in un'eventuale volata Demi rimane favorita ma sicuramente Liesi in tutte le gare finora ha dimostrato di essere più brillante di poterla addirittura staccare pensare di staccare Vollering l'anno scorso era fuori da ogni tipo di scenario un po' come staccare Vanderpool sui muri di muri di pietre sottolineo quest'anno è contendibile intanto Elisa effettivamente è in una condizione stratosferica siamo felicissimi di questo non meritava dopo l'anno scorso anche l'anno scorso forse era così chi lo sa esatto anche l'anno scorso aveva una condizione simile però non ha mai avuto poi modo di esprimerla a pieno insomma a pieni polmoni e invece quest'anno le cose stanno andando per il meglio e vabbè la aspettiamo anche domani eventualmente sicuramente domenica domani se sta lì e stanno tutte lì e nessuno ha lo spunto giusto e si fa lo sprint mica lo deve lanciare a Gaia Realini con lo sprint sul modificio ci sarà comunque seleziona secondo me anche prima di arrivare allo sprint beh qualcosina sì anche nella maschile forse che non perché si parla della freccia ma non le maschile la gente ride io non capisco guarda questa mancanza di maschile no è perché è perché mi ha io scusami guarda che la rivince Irci eh mi ero perso mi ero ho scordato ho perso un dettaglio purtroppo qualche mese fa probabilmente me l'ero scordato semplicemente in mezzo ma mi ha fatto troppo ridere perché poi l'ho riletto stamattina e mi ha spezzato tu dici Marco sono anni e anni che si parla della freccia vallone e del fatto che sia troppo basata sul muro di Wii che esiste solo il muro di Wii e tutto il resto del percorso è come se non contasse praticamente nulla cosa hanno fatto quest'anno hanno tolto la Cote de Cherave e hanno messo un quarto muro di Wii sta cosa mi spezza e vabbè dai un quarto muro di Wii magari che ne sai vabbè è una palesa imitazione del giro dell'Emilia lo dissi subito infatti chiarissimo secondo me tu parli prodomo tua parli vabbè l'Emilia è una corsa molto più amata e che funziona di più della freccia se l'Emilia fosse cagata nel periodo della freccia avrebbe una starlist e un nome che la freccia buona freccia vabbè la freccia ha una grande storia anche l'Emilia però la freccia ha una grande storia che però obiettivamente è l'unica cosa che è rimasta in tutti gli ultimi decenni e piace pochissimo come corsa ha molta storia ovviamente però se qua è solo quello l'Emilia avrebbe la storia ma avrebbe anche questo percorso perfetto meraviglioso che ogni anno comunque offre dinamiche diverse e spettacolo ma se l'Emilia fosse importante come la freccia perché non ha la stessa importanza in realtà lo stesso blasone no si piace dirlo però è così dai certo certo vivrebbe un maggiore attendismo una volta era un monumento l'Emilia non l'è mai stata a livello vivrebbe vivrebbe un maggiore attendismo da parte dei suoi protagonisti secondo te o comunque la corsa si accenderebbe già per esempio al penultimo passaggio spesso oggi al terzo ultimo ma guarda io quello che ho visto negli anni dell'Emilia tendenzialmente l'unica tendenza che ho colto veramente è che più la start list si alza di livello più la corsa naturalmente esplode prima perché essendo molto duro se c'è un capitano che chiede ai suoi di fare un buon ritmo rimangono in dieci al penultimo passaggio gli ultimi anni è sempre successo al terzo ultimo anche ma è successo appunto da quando la fanno corridori molto forti fra i migliori al mondo che hanno quelle qualità lì quando sicuramente ho visto svariate edizioni molto bloccate ma perché c'era c'era meno 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 possibilità quindi secondo me in realtà la renderebbero una corsa dura potrebbe anche risolversi invece al contrario a quattro passaggi alla fine magari che Bogazzar vuole andare via e dice tanti saluti perché no va bene vediamo questo nuovo passaggio a lui domani dai a chi la facciamo vincere dai Irsh l'ha già vinta chi sceglie Ayuso se mi chiedi chi spero probabilmente ti direi Schielmos se la merita però non so se ha la gamba giusta in questo momento probabilmente ti direi l'ascano che fa anche le Ardenne dopo aver fatto le corse quelle matti quelle matti totale io vorrei che vincesse Michael Matthews perché vorrei che si prendesse una corsa interessante dai perché comunque la condizione ce l'ha anche queste ultime corse è sempre stato lì nei gruppetti davanti anche se poi magari si è piazzato un po' più indietro dai vinci una corsa bling così perché la sua faccia della Sanremo quando l'hanno intervistato lui diceva it's hard it's hard è dura è dura una batosta morale poverino allora dico chi mi piacerebbe a me che vincesse sarebbero tipo sicuramente Gregoire Benili sarebbe molto carino Pitcock non è assolutamente delle sue corde se no mi piacerebbe vederli fare una doppiettina doppiettina delle gare minori ardennesi gli si addice secondo me come tipo di corridore Bilbao che l'anno scorso se non sbaglio ha fatto molto bene poi sì ci sono i vari insomma Turns Vanquils Isagir la possono vincere in tanti perché è meglio non avere è meglio non avere il dominatore cioè è meglio avere zero dominatori che uno no? non ho mai fatto caso al fatto che Isagir sembra uno di quei nomi che diceva Franco no scusa Nico Aldo Giovanni e Giacomo Pataggarro Isagir Franco vabbè varrebbe un po' per tutti i nomi baschi più o meno effettivamente si rincorrono un pochino gli idiomi forse più il catalano col sardo va bene sono fatti loro alla fine stanno lì stanno lì una fazza una razza qualche esperto di linguistica qua sotto ci spieghi meglio questa questione grazie ecco un profilo che sarebbe ardennoso e l'avevo chiamato anche la settimana scorsa e però temo che anche quest'anno non si farà vedere un po' perché comunque è un ottimo capitano appunto un po' perché temo che sia lui poi che non spesso non arriva al top proprio della condizione sembra è Andrea Baggioli comunque Pitcock nel 2021 fece sesto quindi potrebbe starci a me non dispiacerebbe per niente lo dico mi sta simpatico il Tommino l'hai detto un po' come Lino Banfield con Baggioli Baggioli è una grande incognita del nostro ciclismo consideriamo che adesso ha 25 anni quindi è entrato un po' nell'età in cui ci si aspetta non possiamo neanche dire nel suo caso ci si aspetta il salto di qualità perché a tratti l'ha lasciato intravedere qua e là ci si aspetta un risultato secondo me questo ci si aspetta da lui arrivati a questo punto cioè si va bene abbiamo capito che sei bravo abbiamo capito che hai giornate in cui la gamba gira proprio che è una bellezza in un mare magno di incostanza se vogliamo va bene è così io cioè non voglio mettere pressione vabbè dico idealmente non è che dico Baggioli mi sa che se ne farebbe una razione in caso vai tranquillo secondo me è questo l'approccio che forse stanno usando anche in Lidl Trek cioè vai tranquillo non ti esacerbare se viene fuori un risultato bello quest'anno diciamo abbiamo dato un senso all'intero progetto che la Lidl ha fatto su Baggioli che comunque può dimostrare di essere vincente in un contesto importante quest'anno puoi continuare comunque tranquillo a fare un percorso di crescita perché poi il compiersi della maturazione può arrivare anche a 26 anni non è che siccome tanti esplodono subito tutti devono raggiungere il top a 22 anni il problema qual è un po' il solito se non dimostri di poter fare il capitano entro una certa età poi inizia a fare sempre il gregario ed è difficile tornare ad avere poi una gamba delle responsabilità e una mentalità da uomo che va a cazza delle corse invece come per esempio appunto obiettivamente avendo Schielmos in squadra non puoi non andare per Schielmos è molto più una garanzia di Baggioli e quindi mi aspetto che in queste corse calcolando che sono corse a giochi tattici in cui siamo tre punte parti te parto io uno di noi vincerà sono corse sullo sforzo secco finale o comunque di una certa parte di gara tipo la Roche-Faucon e lì le squadre vanno per il capitano cercano di costruire tutta la corsa per far arrivare il capitano nelle condizioni giuste a quello sforzo e gli altri si devono solo spremere per lui più o meno quindi vediamo vediamo sto guardando che farà il giro Baggioli del suo esordio al giro mi sa la tappa al giro base minima ecco si diciamo che è un è un obiettivo è un obiettivo sensibile quanto raggiungibile alla portata sicuramente di di Baggioli diciamo allora su 21 tappe del giro ci saranno almeno guarda facciamo così stima molto generosa 5 tappe stima pessimistica tipo 12 tappe che verranno vinte da corridori che probabilmente non hanno le qualità ai Baggioli la maledizione la maledizione della luna nera cosa è questa vinceranno delle pippe 12 tappe forse 5 ma io lo dico perché nei Grand Tour dove c'è un solo uomo sulla carta molto più forte blasonato degli altri tendenzialmente vanno molte fughe in più negli ultimi anni vanno sempre molte fughe nessuna parte tutto e in questo giro in questo giro di corridori molto forti se ne sono pochi obiettivamente la maggior parte sono velocisti uomini di classifica di uomini da fuga o da tappe miste se ne sono veramente pochi allora se Baggioli dovesse fare l'aiutante di Alaphilippe basta nelle tappe miste poi magari giocarsi una o due fughe e non andare a segno come farei a pensare che non sia stato un giro fallimentare anche poi Alaphilippe probabilmente non lo farà neanche il giro ora che si penso quindi ha maggior ragione ecco ha maggior ragione cioè deve giocarsi le tappe miste da protagonista come fece la volta i due anni fa se la giocava con Roglic cioè siamo a quei livelli lì in teoria qui cavolo Marco almeno a livello del zero bisogna distruggerlo in teoria caspita dai dai non ti preoccupare arriva arriva dai il fatto che abbia fatto il giro ti dice comunque di come lui in questi anni sia stato parte del progetto ma forse una parte un po' marginale perché la quick step non è che al giro abbia mandato si ha mandato Remco un paio di volte però insomma c'è stato anche un anno in cui è venuta con una squadra abbastanza vabbè non voglio rifare la quick step al giro si si avrebbe potuto costarlo una volta si però vedi per esempio ha corso tre volte che sulla carta sono il suo zitti quindi ha senso in realtà ha corso un zitti all'anno sempre dal 2020 in poi tre volte un tour però un italiano che non gli fai fare il giro ah quello si è vero certo posso capire che quando ha 21 anni 22 anni lo mandi alla volta è comunque più easy lo so però si procede anche per step tu vinsi mi alla volta poi ti porto al zero per esempio ripeto perché in teoria è proprio perfetta per le sue caratteristiche vabbè può essere che mi stia anche un po' attaccando a questioni che invece avevano la loro contingenza per dire ok fai la volta ora che sei ragazzo poi gli hanno fatto fare il Tour de France comunque e poi il giro lo fai l'anno prossimo poi l'anno dopo invece c'è stato Renko che è stato ingaggiato per fare classifica e quindi hanno fatto una squadra per Renko e quindi la contingenza ha portato va bene ma perché mi sono infilato questo noiosissimo per dimostrare che la quickstep ce l'aveva con Baggioli e non l'ha valorizzato al meglio non è vero non è vero dai no purtroppo l'anno scorso alla volta si è ritirato se no magari dopo setup se no magari avrebbe dovuto avere un ruolo al di là degli scherzi e delle supercazzo però io l'anno scorso che Baggioli fosse finito un po' ai margini del progetto dalla quickstep l'ho percepito sì 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 cioè voglio dire poi lui ha tirato fuori a fine anno il bel piazzamento a Lombardia che ha dato un po' un senso alla sua stagione ha fatto un bel finale no di 2023 però sai quelle sono le corse a cui magari ci sono per le quali ci sono più posti liberi in squadra quindi capito si può correre anche più per per se stessi c'è meno concorrenza a fine anno dei roster diciamo va bene continuo per me caramente a voler battere su questo punto il punto secondo me è chiaro cioè noi non facciamo mai discorsi del genere appunto così monografici su un corridore soprattutto appunto quando deve ancora dimostrare se lo facciamo è perché ci speriamo ce lo aspettiamo ci crediamo e soprattutto perché abbiamo delle bellissime chiome non altrettanto belle chiose perché allora Marco ti è piaciuto il giro dell'Abruzzo? il giro dell'Abruzzo beh sicuramente è una è una è stata una una novità interessante anche se rientra nel discorso Sicilia Sicilia a che pari che voglia tornare poi l'anno prossimo a organizzare il suo giretto come aveva fatto nelle ultime stagioni però a quanto ho capito vogliono comunque organizzare anche il giro dell'Abruzzo ho capito male ma mi auguro che li faccio poi nelle stesse date una faida bellissimo bellissimo sono le nuove Tirreno e Nizza però insomma è vero che c'è abbastanza concorrenza nel calendario in primavera però se in questa fase della stagione tu riesci a mettere Sicilia Abruzzo Tour of the Alps tu hai fatto una mesata di gare a tappe in Italia che sono comunque anche propedeutiche per il giro che arriva lì e non solo e non solo sono propedeutiche finalmente a spostare il blocco di ottobre insieme alle altre classiche e portare il calendario verso questa divisione in blocchi che chi è che l'aveva proposta qualche settimana fa? su Twitter qualcuno adesso non mi ricordo però tipo di fare secco stagione delle classiche stagione dei Grand Tour boom questo lo vedremo però badando a quello che abbiamo più o meno in mano sto riuscendo a farmi riportare da Grassi al concreto dalla strada è una cosa sono arrivato sono arrivato da grande soddisfazione dove sei arrivato allora dicevo che stavo a dire invece si corre i paesi baschi e le classiche quindi calendario di massimo livello però un calendario di seconda fascia che tenga un po' le squadre faccia fare giorni di gara anche alle continentali italiane a confrontarsi con squadre magari non contro squadre magari non contro squadre da 20 milioni di euro dell'UAE sì ecco una versione ridotta dell'UAE o addirittura del development team capito però se si sostanzia questa cosa nel tempo poi magari le start list miglioreranno certo ecco in mezzo a queste corse magari ecco che anche il giro dell'Appennino che è un po' l'uovo fuori dal cesto messo in questo schema può avere un suo senso no? che il giro dell'Appennino è la cosa più ballerina degli ultimi anni per un bel periodo è stato fatto anche in questo periodo ad aprile Temo sia un po' ridondante perché c'è già sia la Terreno che la Coppie Bartali pure l'Appennino cioè più o meno alla fine non si è per i stessi luoghi che percorrono queste tre corse quasi no il giro dell'Appennino è quello di Genova dico il giro dell'Appennino in linea quello vinto millanta volte da GB Baronchelli ok è una corsa che ha perso molto appil proprio perché è diventato ancora? ballerino in questi anni nel calendario ecco che messo vicino ad altre corse una serie di corse in Italia trova senso il 14 luglio si disputerà ma veramente? dai ragazzi vabbè lì da quelle parti c'è l'Adriatica Ionica Race se la faranno va bene insomma dai va bene bene se c'è una sequenza di corse italiane speriamo che venga confermato il giro d'Abruzzo oltre al rinascente il giro di Sicilia e che vediamo poi l'attesa riforma dei calendari come cambierà le carte in tavola perché poi dopo si vende anche tutto da quello quando intervisteremo l'Apartion che stiamo tampinando vi chiederemo anche queste cose caro Stefano sei pronto a fare queste interviste speciali? sì però io spero che lui non abbia mai visto i tuoi video quali video? quelli di ciclo web di qualche anno fa ah lo chiamo Le Grand Fuf Le Grand Fuf io la chiamavo Le Grand Fuf no vabbè poi dopo in quella prima fase effettivamente cioè dava proprio quel tipo di poi dopo qualcosa l'ha fatta anche lui certo il mio presidente di riferimento rimane Brian Cookson che secondo me è stato il migliore di tutti però la partita comunque non è proprio immobilismo allo stato puro di sicuro meglio di McQuaid madonna mia cioè se pensi da cosa veniamo fuori noi vabbè sì quell'epoca è stata proprio censurata è tutta un'altra cosa proprio dopo aver dei difetti lì è proprio un'altra storia un attimino chiedo perdono al Giro e Appennino che mi ero perso la calendar del quale mi ero perso la calendarizzazione di quest'anno ma come fai a metterlo il 14 luglio una corsa in bici poi lo fanno in montagna è fresco insomma ma non dico per quello per cosa per cosa altru de France corrono anche con 46 gradi comunque la cosa veramente bella del giro è Abruzzo è stato questo clamoroso dominio di Alexei Luzzenko contro l'armata UAE che si taffazzava in ogni modo è stato un grandissimo show perché se ci pensi l'ultima tappa l'ha vinta Sivakov che poi è arrivato a 31 secondi a Luzzenko mentre Adam Yates è arrivato un minuto non aveva la gamba ma nella tappa di pratitivo hanno provato a far vincere per forza Adam Yates per i quali si sono spesi sia Sivakov che poi che Ulissi e Ulissi ha tirato nel finale staccando Sivakov quando non ce n'era alcun bisogno perché non ha fatto tirare Luzzenko io non l'ho cioè a prescindere da se Yeats avesse la gamba o meglio se sapevano che Yeats avesse la gamba o meno poi sappiamo che non ce l'aveva e non gliel'aveva detto ma a prescindere da quello perché Ulissi ha dovuto fare quel mega ritmo nel finale per la volata invece di lasciar fare a Luzzenko barra aspettare Sivakov che comunque era lì e nel frattempo stava soffrendo come un pazzo e se l'avesse aspettato non so se poi avrebbe vinto il giro perché magari non lo lasciavano andare il giorno dopo ma sicuramente aveva molte più chance beh consiglio che pure Ulissi comunque ha avuto da ridire è stata una gestione un po' ognun per sé tutti per Yeats cioè quando tu ti dedichi a un capitano che poi non ha le gambe si ma dalla miraglia la dovevano capire prima in generale saltano tutti gli schemi capito si ma se nel finale se la situazione è terzetto al comando due della tua squadra è un avversario dietro in segue da solo uno della tua squadra dietro ancora ci sono gli altri tu non mi puoi dire che stai facendo il ritmo perché poi gli altri magari cioè li hai staccati di brutto sono dietro non hanno più qualcosa da dire anche il giorno dopo è molto difficile che abbiano qualcosa da dire sono stati staccati così brutalmente il giorno prima anche da insomma lo stesso Ulissi perché devi fare il ritmo cioè perché devi cioè Ulissi ha dato proprio tutto ha fatto un lead out ma per chilometri per un bel po' io non capisco queste cose se tu li aspetti Luzenko si deve prendere l'aria in faccia per forza e eventualmente se fa fallire l'azione rimani in tre contro uno e a quel punto cavolo devi fare ancora più un capolavoro per perdere più di quello che hai già fatto va bene qualcuno ha storto il naso anche sul piazzamento terzo, quarto, quinto al giro delle fiandre certo certo Politberg Morgado va bene è così la UEI magari è una squadra per la quale la presenza di Pogaciar mette un po' in ombra anche certi errori tattici che poi se ci pensi anche Tadeno nella tappa del Granon lui è vero che ci ha fatto divertire da matti però qualcuno l'ammiraglia gli avrebbe anche potuto dire ok ora che sei controscattato due volte fermati basta fai andare Roglic e poi ragioniamo si oddio ah si ah si beh non è un giorno sicuro però potremmo parlare anche delle varie Sanremo d'altronde potremmo parlare dell'Aliezi di domenica un'accusa un'accusa diretta pesante all'ammiraglia della UA caro Maccini Fernandez te la dovrai vedere con noi secondo me hanno la tendenza a fare alcune cose estremamente bene altre avere dei preconcetti che li fanno perdere un bicchier d'acqua un po' di rigidità no? sì cioè che sarebbero giusti come concetti generali ma poi non vai a vedere la situazione specifica ragioni più per gerarchie abbiamo detto che ha vinto De Marche oggi a Tour of the Alps no perché era l'ultima cosa che mi stavo tenendo perché è l'ultima in ordine cronologico ma sulla UAE guarda che ti devo dire finché hanno finché hanno questo po' c'era possono anche permettersi di sbagliare qualche corsa il bilancio è sempre inattivo certo no ma a me più che altro piacerebbe che distribuissero in maniera diversa il proprio roster sterminato evitando di mandare i campioni nelle corse solitamente riservate alla raccolta punti e agli scontri per la raccolta punti delle varie squadre minori fare punti ucci in queste gare qui con gente tipo Ayuso o Adam Yates solo perché vuoi arrivare prima a fine stagione va bene poi faremo un applauso che sono arrivati i primi grazie alle vittorie di questo tipo qui quando perdono obiettivamente è una bella rivincita operaia diciamo mettiamola così io non faccio opraio io non pago aspetto non faccio opraio non faccio opraio no faccio opraio grande sì esatto bello figo però dai e poi magari al giro invece insieme a Poggi non ci mandi nessun altro di forte non lo so secondo me fanno delle valutazioni abbastanza strane a volte ma ovviamente chi siamo noi per dire qualcosa la squadra prima nel ranking UCI che è l'unico parametro oggettivo purtroppo che abbiamo è colpa sua chi siamo noi soprattutto con questa adrenalina che stiamo sprizzando oggi chi siamo per dire qualunque cosa a chi che sia allora Alessandro De Marchi ha vinto una tappa in fuga distruggendo gampe che non hanno potuto proprio nulla e questo è chiaramente il periodo dell'anno in cui arrivano sempre le gambe di ADM è sempre bello vederlo vincere anche se poi in intervista Marco era molto più scazzato di noi qui nel podcast perché non l'ho vista non lo so era no ma ha risposto normalmente alle domande però aveva proprio la faccia incazzata nel frattempo non se la gode non se la gode ormai è così poi vabbè vediamo i giorni prossimi cosa ci si servirà a questo Tota che praticamente deve ancora iniziare ieri si è stata stavolata in salita tristissima addirittura così triste che è stata vinta la Tobias Fossi e niente i giorni prossimi vediamo un po' la gamba di tutti pur consapevoli Marco che quando cioè la gamba del Tota è il contrario di quello che vedrai al giro di un corridore vabbè a volte qualcosa ritorna però effettivamente cioè è sempre un discorso di livello chi deve stare al top fra un mese non può starlo oggi e quindi c'è spazio per seconde linee non può starlo non può starlo non può starci non può starlo mi è piaciuto come aspetta chi è che diceva ah c'era un un tweet di Berto Gioele e Bertolini una volta come che scrisse perché mi sei vabbè qualcosa del genere comunque vabbè chiudiamo questa puntata dai basta e il fatto è questo Marco come ho scritto nel mio gruppo a inizio settimana vogliamo ammettere che il periodo dell'anno in cui si passa dagli scontri fra i classicomani più attaccanti aggressivi divertenti potenti al mondo alle volate in salita di coloro che fra un mese faranno il giro e quindi si stanno vagamente preparando adesso oppure alla freccia vallone è chiaramente il periodo dell'anno che mette più tristezza alle nostre vite è il momento del riflusso ragazzi dopo la rubè c'è una questione fisica c'è un calo di succhi sono endorfine che le usi lì poi le devi riaccumulare in questo momento siamo in accumulo poi al giro già la prospettiva della Liegi di domenica con questa sfida tra dei Mattier sempre che ci sarà all'erza dei nostri sensi di ragno intanto ci godiamo anche un po' di bel ciclismo femminile però fisiologicamente dopo la rubè io ho un calo più di una settimanella anche due anche due quest'anno me ne prendo due cose da fare importanti eh sì quest'anno me ne prendo due ragazzi dai vediamo se Elisa riesce a battere Demi Follering è la cosa che mi interessa di più perché voglio avvicinarmi a questa Liegi Marco senza troppe aspettative perché secondo me le chance che ci sia veramente un grande scontro una grande corsa sono un po' basse in realtà eh avvicinandomici senza aspettative potrei essere molto 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 più felice se dovesse essere un garone ecco è una strategia spesso vincente quindi why not al cinema funziona sempre ve lo consiglio andate al cinema senza sapere nulla di quel film e senza aspettarvi nulla così io sto andando al cinema ma cos'è che c'è ah buongiorno Christopher Nolan tipo e poi vi lasciate travolgere allora ieri sera dopo l'osteria Vittorio mi ha spinto mi ha appungolato per fare una canzone in risposta alla sigla di giovanotti il giro d'Italia sulla quale sorvoleremo a 20.000 metri d'altezza secondo me ha un senso quella canzone cioè è orecchiabile una canzone leggera allegra sullo stile diciamo Paolo Belli c'è il filone più impegnato quello che va da Enrico Ruggeri il campione il Gimondi il cannibale passando per Paolo Conte invece è una canzone bellissima però che arrivò a pochi perché comunque era raffinata particolare perfino anche con quella di Gualazzi dell'anno scorso che a me è piaciuta tantissimo c'è questa alternanza gli anni degli autori mi dico Giampieretti gli anni del così del divertentismo vabbè insomma mi ha detto fai questa vabbè io come al solito non l'ho preso tanto sul serio però poi dopo quando abbiamo chiuso il collegamento in 10 minuti l'ho buttata giù perché mi è venuta così la canzone è giovannottiana un po' che stanno dicendo? non lo so però io ancora non sono riuscito a sentirla quindi da dove siamo partiti perché l'ho pubblicata da dove siamo partiti si è pubblicata nelle tue cose personali adesso il pubblico di Ciclo Web e Pietro Tolanti dovrà riceverla in qualche modo ma tanto sarà la sigla del giro quindi la vedrete durante il giro oddio che era una cosa sensata quello che stavo dicendo vabbè mi sfuggire non lo so non mi riguardo e dirò porca miseria no perché dicevi che Wittone ti aveva sfidato e poi non so sei finito in un buco spazio temporale partivo da perché questo era l'esempio che io stavo portando in merito a non so che cosa vabbè poi lo scrivi nei commenti sotto al video ok lo faccio sicuramente sicuramente ti ricorderai molto bene ragazzi ma te lo dico me ne ricorderò un attimo dopo che tu avrai chiuso la registrazione è la sigaretta prima che arrivi il bus classico signori questo era la nostra faccia ardennese che più o meno è la stessa tutti gli anni con questo vi do appuntamento a martedì prossimo perché avremo da commentare la quarta monumento annuale siamo già arrivati a quattro e molto molto interessante sia al maschile che al femminile come dicevamo perché a differenza della Sanremo e del Lombardia le altre tre monumento hanno anche delle bellissime corse femminili che si svolgono lo stesso giorno o il giorno prima quindi ci vediamo martedì prossimo e non lo so sto veramente traiardando come dicono quelli giovani per cercare di concedere a Marco più tempo possibile ma senza interrompere la mia frase risultare cringe se no non avrebbe senso però niente non ce la faccio più ciao Marco ciao la prossima settimana tutti ad attendere il grande paragone di Marco un saluto no lo metto nei commenti dai glielo devo poveri ascoltatori ciao ciao